CAV in Tour, centri antiviolenza in territori operativi uniti in rete, è il progetto che verrà presentato lunedì dall'azienda consortile agrosolidale e ha l'obiettivo di creare una rete di operatori e cittadini formati e pronti a relazionarsi ad aiutare le donne vittime di violenza. Professionisti, insegnanti, associazioni, farmacisti, medici, tutti uniti nella lotta alla violenza contro le donne. Un progetto che avrà una continuità nel tempo per i prossimi due anni, itinerante, coinvolgerà anche le scuole dei comuni del subambito S013 Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. La presentazione nella splendida cornice di Villa Lanzara a Sarno. È un progetto che ha vari obiettivi, è un progetto di sensibilizzazione della comunità proprio sul tema della violenza contro le donne, che sarà realizzato anche all'interno delle scuole, le scuole medie e le scuole superiori del nostro territorio. È un progetto che vedrà dei laboratori sulla educazione ai sentimenti, sugli stereotipi, sulle emozioni, proprio perché ai ragazzi del nostro territorio noi dobbiamo lavorare con loro proprio anche sui sentimenti, perché molto spesso sentiamo i ragazzi che ci raccontano che magari la gelosia del fidanzato o della fidanzata è segno di amore. Vogliamo discutere con loro su questo, sul fatto che quello non è amore. Andare a prendere un caffè con le amiche, andare in vacanza con i propri genitori è un qualcosa che si deve poter fare liberamente. E il fatto che il proprio fidanzato non voglia che la propria fidanzata faccia certe cose non sta a testimoniare che l'ama di più. Anzi, questo è possesso, vogliamo discutere con loro su questo, vogliamo discutere sul fatto che se finisce una relazione non è finita la vita, ma ci sono tante possibilità e allora questi saranno momenti di incontro per discutere con i ragazzi sia sul fenomeno della violenza, su che cosa è, su quali sono le cause, dove ha origine e su come si possono affrontare con loro anche situazioni di violenza nascoste, perché attraverso questi laboratori magari emergeranno anche situazioni di violenza dove i ragazzi sono vittime, vittime dirette o anche vittime di violenza assistita. Ed è un progetto particolarmente importante perché ci consente di fare quel passo avanti a cui stiamo lavorando da diverso tempo, che è la strutturazione di una rete con tutti i soggetti che a vario titolo possono dare un aiuto a raggiungere appunto questo obiettivo come tanti altri obiettivi. In questo caso parliamo di violenza di genere, che è una politica su cui ci stiamo caratterizzando negli ultimi tempi, ci stiamo lavorando molto perché è un tema a cui teniamo particolarmente, ma è una rete che ovviamente deve lavorare, deve strutturarsi su tutti gli altri interventi che riguardano le politiche che seguiamo, le attività che seguiamo come azienda che si occupa di persone, di servizi alla persona. Quale risposta c'è stata? Abbiamo avuto una risposta sicuramente positiva perché tutti hanno immediatamente interagito con noi, con molti già lavoriamo, come le scuole, il terzo settore, le forze dell'ordine su questo argomento, compreso l'ASL. Adesso si tratta di rendere ordinaria questo lavoro su mille altre tematiche. Come sapete con le scuole lavoriamo molto sull'assistenza specialistica, con l'ASL sull'integrazione sociosanitaria, stiamo praticamente semplicemente allargando il nostro raggio d'azione a tante altre attività, in modo da rendere ordinaria e strutturale questa convergenza, questa complementarità, questa capacità di lavorare insieme sulle diverse tematiche. E che è quello che manca molta volta alla pubblica amministrazione, cioè ogni settore della pubblica amministrazione risponde per il suo settore di competenza. Invece noi stiamo provando a dare una risposta integrata, perché molte attività sono composte da diverse questioni e il cittadino non può rivolgersi ogni giorno ad uno sportello diverso. Stiamo provando a dare una risposta unitaria da questo punto di vista, anche su questo tema così importante che, come sapete, è diventato un'emergenza negli ultimi tempi. Grazie a tutti.